Saranno finalmente rimossi i circa 100 sacchi di amianto abbandonati da anni lungo la Basentana, all'altezza di Ferrandina. La giunta regionale della Basilicata ha appena approvato il finanziamento dell'operazione, ma poi bisognerà provvedere alla bonifica del terreno, come ci racconta nel servizio Stefano De Agostini. Dalmeno 20 anni giacciono lungo la statale Basentana, all'altezza di Ferrandina. Sono 97 sacchi pieni di amianto e ora finalmente prende via il percorso per la loro rimozione. La giunta regionale infatti ha approvato una delibera per finanziare con 120.000 euro un progetto del comune di Ferrandina. L'obiettivo è portare via e smaltire l'amianto in un centro specializzato. I sacchi sono abbandonati vicino a campi agricoli e pannelli fotovoltaici. Sono recintati e ricoperti da teloni, che però presentano lacerazioni in diversi punti. La loro origine non è chiara, ma con tutta probabilità provengono dallo stabilimento Materit di Ferrandina. La fabbrica di cemento amianto, chiusa nel 1989, è ancora in attesa di bonifica. A luglio l'associazione italiana Esposti Amianto aveva scritto al ministro dell'Ambiente Costa per chiedere un intervento urgente sui sacchi. Le fibre di amianto, denunciavano gli attivisti, si disperdono nell'aria esponendo serio rischio chi le respira. Ora, approvata la delibera regionale, le prossime tappe saranno il bando di gara e l'affidamento dei lavori. E poi, una volta rimossi i sacchi, bisognerà procedere con la bonifica del terreno contaminato. La strada verso il risanamento dell'ambiente, insomma, è solo all'inizio.